Un caro saluto da Mario Giuliani, il tempo è previsto per domenica 24 novembre, attenzione forte maltempo sull'Italia per effetto della perturbazione giunta sabato il cui vortice di bassa pressione si sposterà dall'ovest della Corsia gradualmente fino al basso Tirreno attivando ancora forti venti di Scirocco soprattutto sullo Ionio, sulle regioni del Medio e Basso Adriatico. Ma andiamo a vedere allora il tempo previsto, al mattino pioggia al nord, tranne l'Emilia Romagna, pioggia sul Lazio e pioggia anche sulla regione meridionale. Al pomeriggio pioggia al nord, regione del Medio Adriatico, al sud e isole maggiore, nella sera ancora pioggia su Marche, Abruzzo, Molise e al sud e isole maggiore. Le piogge saranno forti sul Piemonte, come potete vedere dalle tre gocce, sul Piemonte, sulle Marche, Abruzzo, Molise e su tutte le regioni meridionali, in particolar modo sulle regioni ioniche. Nevicanti abbondanti sulle Alpi tra 1.6 e 2.000 metri, nevicate abbondanti intorno a 70-100 cm sulle Alpi centro-occidentali. Le temperature massime tenderanno a calare un po', allora intorno a 14 grandi sulle regioni di nord-ovest, 14-16 sulle regioni di nord-est e Sardegna, 16-18 al sud e sulle isole maggiore. Ricordiamo ancora il forte scirocco sulle regioni adriatiche e sulle regioni ioniche. Bene, vi ricordo di scaricare dall'ompeggio del nostro sito la nostra app, perché verificate, è molto semplice da usare.